Sì, però è soltanto idoneo, non vincitore. Cioè che io non sono tra quel 30% che posso ottenere la borsa di studio. Siamo in Piazza Bodoni per l'inaugurazione del non anno accademico, visto che non ci sarà un anno accademico. Sono truccata così perché oggi c'è per noi la non inaugurazione dell'anno accademico, riprendendo il famoso cartone o un racconto di Carlo Lallice nel Paese delle Meraviglie. Noi non crediamo ci sia nulla da festeggiare oggi, nulla per cui valga una cerimonia illustrine della nostra accademia torinese. Allora io sono Rosalba, ho 20 anni e sono il mio primo anno di università qui a Torino. Io in realtà sono di origini lucane e sono venuta qui a Torino perché ho sempre pensato che fosse una città che stava offrendo tantissimo ai giovani e che stava investendo molto nella cultura, in musei e quant'altro. Poi sono arrivata qui e mi sono resa conto che invece la nostra università, probabilmente come altrove anche in Italia, sta andando a pezzi. Di tutti gli studenti che sono stati dichiarati idone a ricevere la borsa di studio, solo il 30% la riceverà perché i fondi che sono stati stanziati coprono soltanto il 30%. Quindi i rimanenti studenti che sono più di 8 mila si ritroveranno o senza forse di studio o senza un posto nelle residenze o senza entrambi. Pensate che ci sono dei ragazzi che non hanno dove dormire, dei ragazzi che sono finiti a dormire alla stazione di Porta Nuova per diverse notti. Io no, sono membro del Consiglio di Amministrazione dell'Edisu Piemonte. Sono qua per denunciare la situazione in cui si ritrova l'ente regionale del diritto allo studio universitario, senza fondi certi, al momento con la sola garanzia di non erogare le borse di studio agli universitari di Torino e del Piemonte. Io lavoro presso le residenze universitarie, siamo in appalto, quindi è l'indotto dell'ente del diritto allo studio. Noi non facciamo nessuna polemica, non vogliamo fare nessuna polemica. Noi chiediamo a Cotto di venire a vedere il lavoro che facciamo e quanto guadagniamo e cosa stiamo offrendo ovviamente alle università piemontesi. È un problema che riguarda tutti, non solo i borsisti, anche perché fa parte di un progetto più ampio che prevede una revisione di quello che è il diritto allo studio, passando da un sistema che garantiva delle borse di studio almeno a chi ne va a bisogno, ai cosiddetti doni, e invece dall'anno prossimo quasi sicuramente ci sarà un sistema di debito d'onore che prevede ovviamente un meccanismo diverso, un meccanismo in cui gli studenti che ne avranno bisogno saranno costretti ad indebitarsi per 30 anni, 40 anni. Io non avessi avuto le disu qui in Piemonte non ci sarei mai venuta, nonostante sia Val Dostana non avrei veramente potuto permettermi l'università, una casa e quindi ho usufruito della borsa di studio, della casa dello studente, del servizio mensa, tutto quello che c'era. Il profumo avrebbe dovuto essere presente ma alla fine ha fatto sapere che non sarebbe venuto cosa che tra l'altro era anche già successa il 14 dicembre scorso quando avrebbe dovuto presenziare al senato accademico del Politecnico. Il ministro Profumo non si è mai espresso sulla questione della sua regione nonostante fosse il rettore del Politecnico e ora ministro dell'istruzione non si è mai preoccupato di proferire parola rispetto alla questione delle disu al fatto che proprio nella sua regione ad oggi solo il 30% degli idoni abbiano preso almeno la prima rata della borsa di studio. Noi sappiamo che dal 2009 al 2012 ci sono dai 27 milioni dato dalla regione a 7 milioni quindi non sappiamo quanto l'ente può reggere a tenere tutte le strutture. Ma sì, allora io ho stato rappresentante in senato studenti, in senato accademico e siamo venuti a raddoppiare come regione i posti letto e questo era un passaggio importante a livello di struttura. Tutti gli idoni avevano copertura finanziaria e questo è rimasto così fino a quest'anno. Sono uno dei 206 precari della regione Piemonte siamo qua insieme ai borsisti di Isu, insieme ai precari dell'università perché anche nel nostro ente ci sono situazioni di precariato che vanno avanti ormai da anni oggi c'è una situazione per cui di questi 200 più della metà andranno a casa se non cambia niente a luglio e i restanti a gennaio. Perché il diritto allo studio è un diritto sancito dalla Costituzione? Sono una borsista non vincitrice. Sono tantidonea non vincitore.